Non so neanche se si è cancellato il video di prima Bastardo Previsamente è scomparsa lì con Cina Che doveva attestare Che io stavo registrando Baffambrodo Sta bastarda Io sono andato avanti E quindi se ha caricato il video Poi vi porto quel pezzo di video E poi vi carico subito dopo l'altro Se invece non l'ha caricato Oh piccolo riassunto Ho fatto off camera Un po' di risorse Abbiamo implementato Il piccone a livello 2 3 come vedete E stavo vedendo per l'ascia E ho espanso un po' La zona Infatti ora parte il solito goblin Rompiscatole Vedrete cose che l'altra volta non c'erano Perché tipo la spada qua Nella roccia E stava andando tutto bene con la registrazione Finché è tutto andato a quel paese Abbiamo migliorato il nostro livello di attacco Qua richiede il suo scudo Che però non ci abbiamo Quindi vabbè Poi più in là Ci spiegheranno Forse dobbiamo battere un boss E sto ipotizzando Vabbè Qua c'è il mercante Dice con 80 di ferro Ti do 10 monetine E niente Io stavo continuando Piano piano Però improvvisamente Non ho trovato più La registrazione Così Vabbè Comunque Abbiamo migliorato il piccone Che alternativamente ci dà Più 1 e più 2 A come gli gira Meglio di prima Però insomma Nulla di particolare E ora nulla Stavo continuando ad ampliare un pochettino Non so quanti minuti sono venuti registrati Spero sia venuto registrato qualcosa Onestamente parlando Allora Ok Uh Che cos'è? Un tesoro Ah Mi dà le monetine Che bello Non devo più comprare dal tizio Però me le dà ogni 3 minuti Vabbè Noi ci accontentiamo Ok Buono Buono Allora Per mi rilascia Mi chiedeva 100 L'assi di legno 100 l'assi di ferro E 300 Cubetti blu Quindi andiamo a fare un po' di cubetti blu Che ora col piccone Migliorato Ce ne dà più 3 Non più Più 2 Ok Facciamo i cubetti blu 300 Tra l'altro Manco pochi Ok Va bene Ok 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 Allora Dite che Mi conviene ampliare questa zona qua Sì Vabbè 50 Li facciamo subito Però magari mi dà Altre vene Dei cubetti blu Sarebbe Che dovrebbe essere Zaffiri Basalto Cos'è Come risorsa Non si sa Non si sa Va Allora Andiamo un po' Eh sì 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 Altre Un'altra avena dei cubetti blu Cosa Cosa buona e giusta Ok Ok Allora Facciamo Qua Così miglioriamo anche l'ascia A livello 3 Allora Lascia No non è 300 Ancora devo arrivare a 300 Siamo a 300 Andiamo a migliorare l'ascia Olè Ok Lascia A più 3 Ora me ne prende 3 Va bene Certo Cosa importante Benissimo Quindi Mi sembra Tra l'altro Che andando un po' più giù Proprio all'inizio A parte i goblin Che abbiamo capito Che poi dopo totte Si rigenerano Esatto Qua mi richiede Seventi di legna Proprio all'inizio Per espandere No 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 Secondo me sono gli annunci pubblicitari Che mi fottono E riparte tutto quanto da capo E si toglie la registrazione Guarda il gioco deve per forza Obbligarmi a comprare L'addons Per le pubblicità Ma io non lo voglio comprare Cioè Che rottura di scato Certo Che rottura di scato Speriamo non si toglie la registrazione Che mi darebbe abbastanza fastidio Cioè Ogni volta Allora Non ti togliere Non ti togliere Per piacere Allora Parrebbe non essersi tolta Qua sono comparsi L'altra volta Non le avevo visti All'inizio proprio Però Proprio siamo agli inizi Quindi in teoria Queste Queste zone qua Quando ancora Riedono così poche risorse Insomma Ho proprio Cioè È stato sbagliatissimo Non vederle Quindi Vediamo di ampliarle adesso Queste zone Che comunque Ancora chiedono pochissime unità È facile da fare Qua invece Mi richiedeva Penso per collegare Non lo so Non lo so Allora Torniamo Indietro Perché Dovrebbero essere passati Credo tre minuti O è Esattamente Si è rimesso Il Forzierino Così prendiamo un po' di oro Sto bastardo Di goblin Che deve Per forza Romperci i maronzoli Allora Che le monetine A quanto pare Sono importanti Allora Ancora E basta E basta Goblin Vabbè Tanto Sono qua Apposta Per romper I maronzoli Quindi Che mi stupisco A fare Allora Con cento Di Basalto Zaffiro Sta roba Blu Io Potrei Riuscire Ecco Cento Precisi Ora Non perdiamo Prendiamone un po' Per sicurezza Ok A costruire Questa zona Qua Ok Cos'è Eh Rottura Di scatole Eh Oh God Oh God Oh God Mannaggia A te Cos'è Sto Cosa Io Salverei Non lo so Ho paura Che mi si toglie La registrazione Dello schermo Cioè Mi farebbe Un sacco Rabbia Che Rottura Di scatole Tanto Non lo scarico Sto gioco Inutile Che continui A propormelo Non lo scarico È bruttissimo È una cosa Veramente Orrenda Ci passerei Cinque minuti E poi Mi romperai Le scatole Ok Dicevo Che cos'è Sto coso Change Character Custom Character Ma che mi serve Che mi serve Cambiare Personaggio Vabbè Lo scoprirò Off camera Così evitiamo Di fare pubblicità Eccetera O lo scopro Adesso Vabbè Prima a scoprirlo Adesso Devo cliccare Su special Offerta Ah vabbè Devo comprare Roba No ma che mi frega No 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 Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa No io che ero Con Tocca per giocare Che è successo Pronto Tocca per giocare Niente Niente Mi sei impallato Così Regà Eh vabbè Chiudo qua Il video Mi sei impallato Così Il gioco Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa Non mi interessa